Ouuuuuuuuuuuuuuu Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il cao il cable è stato a 14 km di lungo e ha marato un poigno fixe quindi l'autore si reculava in derrullo il cable al fondo del rose e per rimontare rimontava le 14 km in enrullo di nuovo il cable e faccio la giornata per rimontare ma prima che rimontava il tempo si descendava dove finit ero numerose le tueur? 8, 8 l'ardèche è il tueur che avevano, che insegnava di guardare ero Pierro Bonnet che è il fondatore ero numeri della Coccorda e che voleva guardare e fare un museo ma guardare è il nostro canale e un giorno l'erro murca e fino a Valenze e a Valenze e verso il porto dell'Eperviera e io penso che il va finire il giorno l'errore che vende la mare di muller dimmi fredjao e dimmi la rose e la vigna e l'oustao vende un drè lontan liso mi mam prega di un liviado come un di man cantare e mamon ora lisa ma vè come mi fi l'errore che vende le tue l'errore che vende le tue